Ciao bentornati, io sono Jessica e oggi continuiamo a parlare insieme di realtà virtuale e realtà aumentata. In modo particolare scopriremo insieme tutto quello che riguarda i codici QR o QR code. In realtà io ho sempre tralasciato un po' questo tipo di tecnologia perché mi sembrava molto semplice, quindi trovo il codice QR ad esempio sulle scatole di un prodotto oppure in un luogo di interesse, l'unica cosa che devo fare è avere sul dispositivo mobile, sul cellulare, un'applicazione che mi permetta di fare la scansione del codice QR. Ce ne sono tantissime di applicazioni che permettono di fare questa cosa, quindi non mi sembrava niente di particolare. Una volta che inquadro il codice QR posso ascoltare, vedere o leggere tutto quello che il creatore ha collegato al codice QR. E fin qua, come vi dicevo, non c'è niente di particolare. In realtà, andando ad approfondire questo argomento, ho scoperto tantissime cose molto molto interessanti. Prima di tutto, com'è possibile creare i codici QR, quindi com'è possibile creare queste matrici di quadrettini bianchi e neri che poi andiamo ad applicare nei nostri progetti didattici o in ogni caso che andiamo ad apporre sui prodotti che vogliamo far vedere agli altri, che vogliamo aumentare, quindi vogliamo aggiungere informazioni a questi prodotti. Oltretutto, ho approfondito la differenza tra codici QR statici e codici QR dinamici. Anche in questo caso, avevo sentito che esistevano questi due tipi di codici, ma non avevo mai approfondito come funzionassero, quindi come possiamo creare o codici statici oppure codici dinamici e perché sono diversi l'uno dall'altro, e soprattutto proprio come funzionano nello specifico. Nella parte tecnica approfondiremo tutti questi aspetti, vedremo in modo particolare uno strumento online gratuito che si chiama The QR Code Generator e attraverso l'utilizzo di questo strumento scopriremo anche tutte le caratteristiche dei codici QR, cosa sono e come funzionano. Così potrete cominciare a produrre codici QR a volontà e ad applicarli in tutti i vostri prodotti per aumentarli, quindi stiamo parlando di realtà aumentata, aggiungerete informazioni ai vostri progetti. Come vi dicevo, poi potete andare a fare la scansione con qualsiasi tipo di app, io ne utilizzo una qualsiasi sul dispositivo che vedrete nella parte tecnica. Se siete curiosi di sapere come ho fatto a mostrare il mio dispositivo mobile sul PC e quindi a registrarlo, vi rimando al video in cui vi racconto tutto su TeamViewer perché è lo strumento che utilizzo per mostrare il mio cellulare, il mio dispositivo mobile sul PC e anche guidarlo da lì. Penso proprio di avervi detto tutto, quindi vi lascio alla parte tecnica che è anche abbastanza corposa. Scommetto che pensavate anche voi di sapere tutto sui codici QR, ma sono sicura che scoprirete anche delle novità. Ci vediamo alla fine del video per i saluti. Eccoci all'interno di QR Code Generator, l'indirizzo è questo in alto, come sempre ve lo metto nell'info box sotto al video, quindi potete accedere direttamente. Adesso andiamo a vederlo nel dettaglio e guardiamo anche tutte le opzioni particolari che ci mette a disposizione. Innanzitutto per creare e iniziare a creare i nostri codici QR statici, e poi vedremo la differenza con quelli dinamici, non abbiamo la necessità di loggarci, quindi di creare un account, di entrare con le nostre credenziali su QR Code Generator. Quindi già questo è molto comodo. Innanzitutto sulla sinistra abbiamo anche la funzione scan, che ci permette di fare direttamente da qui la scansione dei nostri codici QR, se ne abbiamo alcuni stampati. È utilizzabile questo strumento anche via mobile, quindi attraverso il browser che avete sul vostro dispositivo mobile, e potete utilizzare anche comodamente la versione scan. Noi però adesso vedremo solo la versione generate, quindi la parte che ci permette di creare i nostri codici QR. Cosa possiamo agganciare al nostro codice QR quando siamo su QR Code Generator? Innanzitutto del testo, quindi del testo che comparirà una volta che scansioniamo, che facciamo la scansione del codice QR. Un URL, oppure un contatto che poi potremo aggiungere in automatico sul nostro dispositivo mobile, un numero di telefono, anche in questo caso potremo chiamarlo direttamente oppure aggiungerlo, oppure inviare direttamente un SMS, quindi inserendo il numero e il messaggio del testo. Noi guarderemo in modo particolare testo libero e URL. Innanzitutto vi faccio notare che ogni volta che io ho cambiato tipologia di contenuto agganciato al codice QR statico, perché stiamo ancora parlando di codici QR statici, poi vedremo la differenza con quelli dinamici, il codice QR cambia, perché in automatico all'interno del codice QR viene codificata anche la tipologia di contenuto che io andrò ad inserire, ad agganciare a questo codice. Il fatto che all'interno del codice venga inserita la tipologia di contenuto permette poi all'applicazione di scansione del codice di capire in automatico che cosa può fare con questo contenuto. Ad esempio, il testo libero verrà visualizzato direttamente, se viene visualizzata un'URL invece ci viene richiesto di navigare online e quindi di accedere al browser. Ma andiamo passo passo, iniziamo con il testo libero, quindi noi andiamo ad inserire un testo, io inizio con questo codice, è un codice QR statico e quando andrò a fare la scansione comparirà questo testo. Come vedete io sto andando piano anche a scrivere per farvi notare che ogni volta che vado ad inserire un carattere il codice in automatico cambia, quindi viene codificato tutto quello che sto scrivendo e viene inserito all'interno del codice. Cambiano anche nel nostro caso, visto che abbiamo inserito diverse lettere, i quadrettini bianchi e neri che sono all'interno proprio come quantità, vedete che adesso ce ne sono molti di più rispetto all'inizio. Allora, io ho già il mio codice pronto, se voglio scaricarlo sul PC posso selezionare Save, in realtà vado a vedere in anteprima quello che mi è stato già fornito. Quindi prendo il mio dispositivo mobile e voi lo vedete sulla destra, vado a fare la scansione del codice ed ecco che in automatico mi fa vedere il testo che io ho abbinato a questo codice. sotto ho alcune opzioni, ad esempio copia contenuto, invia email, condividi, ricerca sul web, ma ne possono comparire altre in base al reader, allo strumento di scansione che andiamo ad utilizzare. In questo caso io ho un testo, quindi mi dà queste opzioni. Se vado a cambiare anche soltanto un carattere del mio testo, in automatico il codice QR cambia, quindi quello che io ho stampato precedentemente e ho inserito in un punto caldo, ad esempio, del mio territorio o all'interno del mio progetto o del mio libro, non andrà più bene se io voglio cambiare il testo. Quindi il codice QR che ho inserito, scaricato e inserito inizialmente, ci darà sempre e soltanto questo risultato, quindi un testo con esattamente questi caratteri, quindi questa frase. Se voglio cambiare la frase, in questo caso il testo, ma può essere anche un URL che vedremo tra pochissimo, dovrò eliminare il codice QR che ho inserito all'interno del mio progetto all'inizio e sostituirlo con questo, sempre perché stiamo parlando di codici statici. Come vi dicevo, oltre al testo libero può essere inserito anche un URL, quindi andiamo a selezionare URL come tipologia, anche in questo caso il codice QR cambia, vedete che i pallini sono molto più grandi, quindi ce ne sono pochi, perché per ora le cose da codificare sono soltanto la tipologia di URL, ma dobbiamo andare ancora ad inserire l'indirizzo del sito o del materiale che vogliamo collegare al nostro codice. È una cosa molto semplice perché mi basta posizionarmi sulla pagina che mi interessa oppure che ho creato appositamente per inserire del materiale da collegare al codice QR. Prendo il codice QR, lo copio e lo vado ad incollare all'interno del campo. Ed ecco qui, il codice QR è stato modificato come grafica, quindi come quadrettini e adesso vado a prendere il mio dispositivo, faccio la scansione ed ecco che ha riconosciuto che è un'URL, quella in particolare che noi abbiamo inserito e posso andare a ricercarla, a copiare il contenuto oppure posso anche andarla direttamente a ricercare sul web ed è solitamente l'opzione che selezioneremo, quindi selezioniamo Browse Website e in automatico ci mostra il sito, la pagina che noi siamo andati a collegare al nostro codice QR. Quindi chi farà la scansione accederà direttamente alla pagina che noi abbiamo collegato. Come abbiamo visto prima, questo codice QR resterà immutato e ci porterà soltanto a questa pagina. Ma nel nostro caso potremmo avere la necessità di collegare non soltanto un sito che è già stato fatto oppure che abbiamo fatto noi appositamente per collegare la pagina al nostro codice QR, ma un materiale che abbiamo sul nostro PC. I materiali che abbiamo sul nostro PC non hanno un codice URL perché non sono caricati online, quindi dobbiamo trovare una modalità per caricare i nostri file, i nostri materiali online e assegnare quindi a questi materiali un URL, un indirizzo internet. Lo possiamo fare ad esempio caricandoli su Drive. Ad esempio nel mio caso ho una infografica molto interessante da collegare a un codice QR che voglio stampare e mostrare al pubblico, quindi vado su Drive, seleziono Nuovo, Caricamento di file e vado a selezionare questa immagine. Io sto utilizzando un'immagine, ma potrebbe essere benissimo, un file audio che narra e descrive ad esempio il punto, il luogo vicino al quale ho messo il codice QR. Seleziono l'infografica, apri, che mi permette di caricarla su Drive ed ecco qui. Adesso la mia immagine è caricata online, quindi ha un URL. Questo URL, questo indirizzo, però deve essere visibile a tutti. Per farlo vado a selezionare Ottieni link condivisibile, che mi permette di far vedere la mia infografica a chiunque vada a fare la scansione del codice QR. Quindi vado a prendere questo link, questo URL, lo copio e lo incollo per collegarlo al codice QR. Ed ecco qui. In automatico il codice QR si è modificato e io posso andare poi a vedere il mio materiale. Vediamo subito. Quindi prendo il dispositivo ancora una volta, faccio la scansione e in automatico compare in alto l'indirizzo del mio materiale e sotto avrò sempre naviga sul sito, quindi naviga il sito che è collegato al codice ed ecco qui che apre il materiale che ho collegato, in questo caso è un'immagine, ma come vi dicevo può essere anche, ad esempio, un audio. Per ora abbiamo parlato di codici statici, quindi una volta che andiamo a collegare un testo o un'URL viene codificato direttamente attraverso i quadrettini bianchi e neri e ovviamente non potrà più cambiare perché andiamo a codificare un testo ben preciso. Possiamo però anche creare all'interno di QR Code Generator dei codici dinamici. Lo possiamo fare se accediamo con un nostro account Google. Quindi in alto selezioniamo Sign In, ovviamente dobbiamo già avere un account Google, nel mio caso l'ha già riconosciuto e quindi ho già effettuato l'accesso. A questo punto posso continuare a creare i miei codici QR statici e non ci sarà nessun problema, ma andando su My Quotes posso creare dei codici QR dinamici. Cosa significa? Che se io creo un codice QR lo posso stampare, rimane sempre quello e nel tempo posso decidere di cambiare il materiale abbinato a quel codice QR. Vediamo perché QR Code Generator ci permette di fare questa cosa. Iniziamo con la creazione del nostro codice dinamico. Selezioniamo il più e vedete che ci ritroviamo esattamente nella stessa situazione di prima. Abbiamo le tipologie di materiali collegati quindi free text e URL nel nostro caso perché abbiamo guardato in modo specifico questi. Se io seleziono URL o cambio comunque tipologia di collegamento vedete che il codice QR dinamico non cambia perché QR Code Generator ha codificato all'interno di questo codice un suo URL che noi in realtà non vediamo ma che è codificato qui sotto. Tra pochissimo riusciremo anche a vedere che URL c'è. È un po' come se QR Code Generator ci fornisse una pagina del suo sito in cui a piacere possiamo andare ad inserire del materiale che poi nel tempo cambiamo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio così capiamo ancora meglio cosa succede. Allora innanzitutto iniziamo con free text e inseriamo il nostro testo. questo è un codice QR dinamico che mi permette di cambiare il contenuto. Come vedete mentre io scrivo il codice QR non cambia perché in realtà i quadrettini neri e bianchi non dipendono da quello che io vado a scrivere o collegare dipendono soltanto dall'URL dalla piccola paginetta di QR Code Generator che mi è stata assegnata che è stata assegnata a questo codice in modo particolare. Adesso andiamo anche a scoprire qual è. Allora vediamo da mobile cosa succede. Io vado a prendere il dispositivo faccio la scansione del codice e come vedete non compare subito il testo come era successo prima. magicamente compare un'URL che è proprio quell'URL che QR Code Generator ci ha prestato e a quest'URL noi possiamo assegnare e abbinare tutto quello che vogliamo e possiamo anche cambiarlo nel tempo. In questo caso anche se si tratta di un testo vedete sotto che mi dice naviga sul sito perché lui comunque lo riconosce come URL e non come testo quindi io gli dico di sì che voglio navigare e infatti accedo alla piccola paginetta di QR Code Generator che mi è stata prestata con questo URL e vedo il testo. Questo mi permette di stampare il codice QR poi se tra un mese voglio andare a modificare i contenuti che sono collegati al codice posso tranquillamente modificarli senza la necessità di andare a togliere il codice e sostituirlo con uno nuovo perché qui è codificato soltanto l'URL che ci ha prestato QR Code Generator e non esattamente carattere per carattere quello che abbiamo scritto. Infatti ad esempio se andiamo a collegare un URL vedete che ancora una volta non cambia mettiamo la nostra pagina web il codice QR ancora una volta non è cambiato andiamo andiamo a fare la scansione e vedete che come prima c'è sempre lo stesso URL che ci ha prestato QR Code Generator abbinato a questo indirizzo online però non c'è più il nostro testo di prima infatti se andiamo a navigare non ci riporta al testo ma ci riporta al nostro sito questo è veramente utilissimo perché se io vado ad inserire da qualche parte un codice QR statico non potrò più modificare il contenuto invece con un codice QR dinamico posso modificare nel tempo il contenuto abbinato a questo codice in più se vado su My Code innanzitutto vedo quante scansioni sono state fatte del mio codice dinamico posso eventualmente cancellarlo se non voglio che riporti più a nessun contenuto oppure come dicevamo prima posso editarlo posso modificarlo e cambiare ciò che è collegato il mio codice QR dinamico benissimo quindi abbiamo visto tutto sui codici QR da che cosa sono fino alla loro creazione poi abbiamo visto la differenza tra codici QR statici e codici QR dinamici per qualsiasi domanda potete scrivermi qua sotto nei commenti spero che questo video vi sia stato utile soprattutto vi abbia fatto scoprire cose nuove io ho voluto condividere subito con voi quello che avevo approfondito nelle scorse settimane se avete piacere di continuare a parlare con me anche durante la settimana potete seguirmi su facebook e instagram e comunque ci vediamo qua sul canale giovedì prossimo ciao ciao